La pandemia è stata veramente una grande rivoluzione e soprattutto ha di nuovo posto al centro anche dei sistemi economici la presenza dello Stato. Cosa era successo prima della pandemia? Velocissimamente. La crisi finanziaria del 2008 partita dall'America che ha coinvolto tutto il sistema finanziario globale. A quella crisi fu data una risposta. Non ci doveva più essere lo Stato che salvava le banche ma le banche si dovevano salvare da sole. Nacquero le regole europee dopo il 2010. In realtà queste regole europee, quella cosiddetta del bail-in, cosa hanno imposto? Hanno imposto qualcosa che stava per far fallire tutta una serie di banche. Pensate al caso del Monte dei Paschi di Siena in Italia. Il Monte dei Paschi di Siena in Italia è stato salvato dallo Stato che ancora oggi è il maggiore azionista dopo quella operazione del 2016. Quando è arrivata la pandemia in realtà la pandemia non ha fatto altro che consolidare questa nuova centralità dello Stato nel sistema bancario. Il sistema bancario da solo non si sostiene. Questo è il punto. Questo libro nasce proprio nel periodo della pandemia. È un libro fatto della mia voglia di andare a fondo su questi scenari di crisi per cercare di comprenderli e di uscirne in qualche modo fuori.